Kaczmarczyk e Washington Solissima, meritava di entrare, non entra ma infatti arriva a rimbalzo offensivo Canestro, qua dal lato panchina, dalla distanza Adesso va da Panzera dovrà in qualche modo risolvere in palleggio Resto tiro e Canestro Prova a rispondere con Pastrello, backdoor di Delicia Washington Sbagliato ma poi trova al centro dell'area benissimo Moore che si libera in difesa perché Pastrello è già dall'altra parte Si mette spalla a canestro contro Gorini Forse prima e Pastrello poi Palla dentro per Moore a proposito di alta percentuale Che vuole liberare il lato per Pastrello Riesce ad arrivare fino in fondo 4 contro 1, 3 contro 2, vedete voi comunque 2 per Tinaramur Tanto ancora Kaczmarczyk e poi deve uscire da Mirazio Tripla Cosa che ha fatto Holmes Unita subito dalla giocatrice Ancora con Mirazio, passa nuovamente dietro Panzera Questa volta però in inseguimento Dedic, la giocatrice di Spalato Va dalla capitana di San Martino Di Sesto San Giovanni Ribaltamento di lato per Begic Che mette un piede 9 secondi per andare al tiro E si inizia con il pick and roll Mirazio dalla distanza Peraltro Delicia Washington Che qua va in palleggio a resta tiro Gorini nuovamente in attacco Palla dentro per Begic Questa volta non può sbagliare Riesce a liberarsi su... Trucco, riescono addirittura a fare due passaggi Non ci pensa bene Washington E alla fine dall'altro lato Gorini fino in fondo È rovesciata Palla per Gorini Palleggia a resta il tiro a canestro Riesce a recuperarla Bestagno Stanno aspettando che rientra Mirazio Evidentemente invece no Corini fuori per Begic Dentro per Moore Liberissima Centro area Continuano con i passaggi E in transizione Il Geass È rientrata Mirazio Anche contro i falli Washington Segna Subisce il fallo Viene per un istante raddoppiata Allora Bestagno Dovrà risolvere Con un bel palleggio A resta tiro Sera 10 secondi per andare al tiro Ce ne mette meno La numero 6 Dall'altra parte Altre percentuali Ad inizio partita Soprattutto San Martino Nel primo quarto Tacca ancora a Gorini Palla dentro per Moore Anche di altissima qualità Da parte di Gorini Filippice canestro Ma lo tiene comunque Libera Gorini Prende la tripla canestra Però il punteggio Dice 50 A 28 per i padrani di casa Milazio Un palleggiare a set tiro Al recupero E all'apertura per Gorini Che va dentro da Moore Marcata da Milazio 5 minuti di terzo quarto Ci avviamo Direi Ad un finale di partita C'è anche 4 contro 1 Si butta dentro Il numero 14 Panzera Va a stoppare Ma non c'è l'uscita Sequoia Oms Pareggio Al resto tiro E canestro E si si è un po' fermata La produzione offensiva In generale Correre Russo Dall'altra parte Sulla linea di fondo Anche lei Per Milazio Anche di Tilara Moore Al tiro uno dei rari A dire il vero Russo Attacca Di mano Mancina Il jazz Lo deve fare Oms Ne approfitta Dalla lunghissima distanza Un tiro e mezzo A partita Pochissimo per fare statistica Washington Delizia Washington A rimbalzo Poi decide di attaccare Nuovamente con visitazione Palleggio Arresto tiro E canestro Aveva un passaggio dentro Per Moore Molto molto in precedenza Poi Gorini Di due quarti e mezzo Ancora in palleggio Verso il centro dell'area Fino in fondo Di mano In transizione Milazio da 3 Non se la sente Penetrazione Scarico Se la sente Pastrello Da oltre l'arco Il jazz 8 vinte 9 perse Per la compagine Veneta Ottavo posto Al momento Gorini 4 secondi Per andare al tiro Da lontanissimo Fidi 70 Anche questa sera Mentre Verona Va in penetrazione Mano Mancina Ma la partita È finita Del percentuale Non gli interessa Più nessuno 74 75 Il punteggio